Attenzione, adesso che mi passa la lametta su questa parte di guancia faccia attenzione perché sono butterato e in genere non mi tagliano mai bene i peli Io ho la situazione perfetta per lei, le garantisco una rasatura senza tagli e danni Mi dia un secondo La vede questa sfera di legno? Lei deve metterla in bocca dalla parte della guancia butterata Ma è sicuro? Tenga, tenga, si fidi, si fidi, si fidi Oh, bravo così Lo sente che mi ha una calore? Lo sente? Se lei la tiene così tutta la notte e magari ci dorme sopra, sparirà la zona butterata Quindi rasatura perfetta? Senza neanche un pelo? Glielo assicuro, però ho una condizione, questa me la deve riportare domani mattina presto Perché è l'unico modello che ho, è un pezzo unico Sì, ma se dovessi ingogliarla durante la notte, come faccio? Pazienza, che problema c'è? Vorrà dire che me la riporterà fra due giorni come hanno fatto tutti gli altri Puh, ma lì nemmeno un altro shot Uh, uh, uh